In direzione di Jeddah, accelera Jeddah e porta il pallone per vie centrali, scatta Pinardi, ancora Jeddah, bello il dribbling, palla dentro per Ragazzo, davanti al portiere, bella la finta, ancora Ragazzo, gran gol, strepitoso gol di Ragazzo. Accosta fuori per Pinardi, dentro per il movimento ancora di Ragazzo che si libera del portiere, ancora gol e ancora Daniele Ragazzo. Jeddah, c'è largo Martignoni, Jeddah accelera, porta il pallone, Uedraogo glielo toglie, Jeddah tenta di recuperarlo, ancora Uedraogo che va a lottare mentre l'arrivé, Jeddah, lo stesso Uedraogo, si accende la rissa, attenzione, e stavolta è rissa vera perché l'arrivé viene colpito ma reagisce, stavolta è rissa vera, stavolta è rissa vera con l'arrivé che va giù, attenzione alla mischia che si crea, mischia vera con botte da orbi, botte da orbi, botte da orbi. botte da orbi e botte vere, botte da orbi e botte vere.